Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Master06 e oggi siamo sul castello del mondo 1, siamo pronti per iniziare, qua abbiamo anche l'aiuto di Todd che faremo penso dopo e abbiamo il primo boss col ciuffo blu, il ciuffo che gli spara in alto, manco già, ok prendiamo il fungo, qua abbiamo subito il primo tartosso di questa serie, ieri non è uscita la seconda parte doveva uscire il secondo episodio dove facevo il secondo, in realtà dovevo registrare solo il secondo ma poi ho fatto anche il terzo e gli ho fatto vedere le case fungo, quindi ho detto faccio tutto questo ambaradamme poi per terzo esercizio, cioè per terzo esercizio, per terzo episodio faccio il castello, ok raga, siamo alla metà, abbiamo preso la prima moneta stella, la prima di questa serie, mi sa che là c'era la moneta, la moneta stella, e vabbè l'abbiamo evitata però chissene dai raga, la prenderemo, no dai non la prendiamo, e dai raga, oddio, ok, ci becchiamo la tuta elica che io prenderò, perché mi serve, e prendiamo la terza moneta stella, la seconda non l'abbiamo presa, però vabbè dettaglio, brutto tartosso schifoso, c'è tartosso il nome del personaggio, madonna, ok andiamo a salire sulla piattaforma, ok dobbiamo prendere tutte queste monete rosse, ok raga, iscrivetevi, mi piace, e tutto, dai raga, dai raga, ci siamo arrivati, dall'altra parte c'è la vita che mi ricordo, sono un genio, sono un genio, ragazzi, hashtag massi tesi te lo sei un genio, mettetelo, no dai, il primo boss di questa serie, ok, sempre di che vogliamo saltargli sulla testa, dobbiamo saltare sulla testa tre volte, ma io preferisco fare come piace a me, ok, dai raga, l'ultimo colpo alla super mario, ciupa, e completiamo il castello ragazzi, vattene via, questa serie ragazzi, Peach, la chiameremo la fidanzata che non ho, ditemi voi se preferite che la chiamerò Peach o la fidanzata che non ho, vabbè, va bene ragazzi, per questo video può essere tutto, vi faccio, sì voglio salvare, adesso vi faccio vedere come funziona la casa stella, in realtà, vai in questa casetta, c'è già un Toad, c'è la batteria scarica dal telecomando, e si apre, sto scrigno, dove c'è la stella, e se non mi si scarica il telecomando, vi faccio vedere come funziona sta roba di Toad che piange, il comando scarico dai, oh, in pratica se dovreste sentire c'è, in pratica il Toad che urla, perché come avete visto dal scorso livello c'era il personaggio là che se lo portava via, eccolo qua, e dice, oh, ci chiamano così, ci dice, oh, dobbiamo portarcelo tutto intero, se lo portiamo tutto intero ci dà tre vite, e ci dà la casa fungo, e se lo portiamo mezzo, tipo quando subisci due volte danni se hai già una tuta e sei già grande, ti dà una vita sola e la casa fungo te la dà lo stesso, allora le monete stelle non le prendiamo, dai ragazzi che è piccola salviamo facilmente, perché io il gioco l'avevo già completato, e neanche un secondo che l'abbiamo completato, allora un one up che abbiamo già completato, e lui ce l'ha nati tre, god damn, però non vi faccio metterla a casa fungo, perché ve l'ho fatta vedere nello scorso video, che non è il primo ma il secondo episodio che sta uscendo adesso, lo vedo ragazzi questo video è un po' più grande, spero vi sia piaciuto, come al saluto se il video vi è piaciuto, se 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 vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo al prossimo video, con il master 06 è tutto, bello ragazzi!